Un saluto ai miei amici di Youtube e di Telebabu Web TV, questo è un altro video, un altro video saluto a una persona molto speciale che ringrazio di cuore, che mi ha fatto gli auguri, grazie mille a te da parte mia, spero lo visionerai, sono un tuo grande fan anche io come amico di Marco, un saluto ai miei amici Enzo Salvi, grazie ancora per i tuoi auguri, mi ha fatto molto piacere, grazie di cuore, un saluto e buon proseguimento per la tua tournée, grazie, grazie di cuore, ciao e un saluto da parte di Telebabu Web TV, dimenticavo, carissimo Enzo Salvi, ciao, ai prossimi video Enzo, ciao, grazie ancora Grazie a tutti